La parola mondo è una parola grande per un paesino così piccolo, però il significato è che volevamo noi prendere delle iniziative per pulire il nostro territorio, cioè le zone che ci stanno intorno, insieme alle altre associazioni del Comune che fanno volontariato, fare delle domeniche, delle domeniche mattina per pulire i nostri boschi fossili, le nostre strade, i nostri torrenti da tutto quello che viene sporcato quotidianamente. Rimboccarsi le maniche per ripulire l'ambiente che ci circonda è questo il messaggio ecologista lanciato da Cigiano nel corso della tradizionale festa dell'uva, del vino e dell'olio. Si tratta del progetto Un mondo pulito che è stato presentato nel Museo del Vino del Borgo della Val di Chiana ed è rivolto alle amministrazioni e a tutte le associazioni del territorio. È un'idea che abbiamo avuto e approfittiamo della festa appunto per riunire qui stasera le associazioni di tutto il Comune, o i loro rappresentanti, per dare vita a un'idea che abbiamo, quella di usare il tempo libero dei quelli più sensibili a questo discorso. Io sono uno di questi, nel senso che non posso vedere lo sporco per le strade e queste cose qua. La domenica approfittare della passeggiata che abitualmente tanti fanno così è per rendere perlomeno quello che è intorno a noi più vicino, più pulito. E anche dare un messaggio all'esterno, sia per gli adulti, che molti ancora non hanno capito l'importanza di questa cosa, di tenere pulito la nostra terra e il nostro pianeta, e poi soprattutto alle nuove generazioni. Per l'amministrazione Civitella il tema ambientale è un tema importante. Nel 2016 siamo partiti con un rinnovamento completo della gestione dei rifiuti, che ci ha portato a un forte aumento della raccolta differenziata. Siamo passati da un 30% a un superiore al 70%, che è quello che poi ci chiede l'Unione Europea.